Le prime 2.500 banconote di Bobbio sono già pronte, con tanto di numero di serie e Ponte Gobbo impresso su una carta leggerissima. Sono le banconote souvenir della Valtrebbia, prodotte per valorizzare l'intero territorio piacentino, non solo per i turisti, ma anche per i collezionisti. È stata un'idea che abbiamo realizzato con Piacenza nel mondo, assieme a un gruppo di amici, la famiglia Frontini in particolare. È nata l'idea di valorizzare il territorio piacentino attraverso delle banconote commemorative. All'estero, in primis la Francia, le banconote souvenir hanno rimpiazzato le più nostalgiche cartoline, come ricordo di un viaggio. Quelle di Bobbio saranno inviate anche alle comunità di piacentini emigrati. Riteniamo possa diventare un gadget e anche un elemento di collezionismo importante, oltre ad essere un elemento, uno strumento per la valorizzazione del nostro territorio. E ora si sta già lavorando a un'altra banconota bobbiese, stavolta con la Statale 45.